La Giunta regionale dell'Abruzzo ha approvato una serie di delibere che impattano su diverse aree, dall'edilizia residenziale pubblica allo sport, passando per l'agricoltura e i trasporti. Tra le decisioni più significative spicca l'esclusione di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica a Castelliglieri e Montesilvano da un possibile utilizzo residenziale. Questa scelta, motivata da esigenze specifiche, mira a ottimizzare l'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico. Parallelamente la Giunta ha stanziato 60.000 euro per sostenere l'organizzazione della Nova Eroica Gran Sasso a Castel del Monte, un evento sportivo che promuove il territorio. Sul fronte agricolo è stato approvato uno schema di protocollo d'intesa con la Regione Lazio per regolamentare la stagione venatoria. Questo accordo mira a facilitare la collaborazione tra le due regioni e a garantire una gestione sostenibile delle risorse faunistiche. Per quanto riguarda i trasporti è stata approvata una convenzione con Fira per il monitoraggio del progetto ACES, un'iniziativa che punta a migliorare la salute, l'ambiente e la biodiversità. Infine, la Giunta regionale ha approvato il bilancio consolidato 2023, un documento che offre una fotografia completa della situazione finanziaria della Regione Abruzzo e degli enti ad essa collegati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.